Vediamo quali sono gli argomenti che affronteremo in questo videocorso. Poiché il mondo dell'editoria sta cambiando in modo notevole, è necessario cercare di orientarsi con i vari prodotti che troviamo sul mercato. Andremo ad analizzare i vari formati dei nuovi file, che saranno i formati ePub per realizzare dei libri digitali, il formato delle applicazioni, il formato PDF che già conosciamo da tanti anni e il formato folio. Poi andremo nel dettaglio e approfondiremo le tipologie di formati uno ad uno. Ad esempio faremo degli esempi di realizzazione di ebook, vedremo quali sono i visualizzatori, vi farò vedere degli esempi sull'iPad di touchbook, che sono dei libri interattivi. Poi passeremo ad analizzare il formato PDF e vedremo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo formato e rispettivamente le varie tipologie di file che sono stati utilizzati sui vari device. Poi analizzeremo le caratteristiche delle applicazioni, ce ne sono di vario genere, vedremo le applicazioni fatte con la programmazione, quelle che sono dei contenitori, quelle che sono delle applicazioni singole e procederemo con il formato folio, che si può considerare un formato di semilavorato indipendente, in quanto può vivere anche senza essere un'applicazione, quindi senza diventare un documento da distribuire sull'Apple Store o su altri mercati, ma può essere distribuito semplicemente da un device all'altro, grazie ad un'applicazione gratuita di Adobe che si chiama Adobe Content Viewer, che vedremo nel dettaglio. Poi arriveremo ad analizzare il flusso di lavoro con la Digital Publishing Suite e vi daremo alcuni suggerimenti proprio per ottenere il massimo risultato da questi nuovi supporti.